E' stata presentata nella sede della Fondazione Piazza dei Mestieri la seconda edizione del convegno interattivo Overweight Istruzioni per l'Uso, in programma il 12 marzo all'ingotto di Torino. Patrocinata dal Consiglio regionale e organizzata dal Centro Ricerca e Performance e Benessere SICON Advanced Wellness Studies. Tra gli ospiti il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, lo showman Piero Chiambretti, l'illusionista torinese Marco Berri e lo chef a piemontese da adozione Gian Piero Vento. Mi piace poterla in qualche modo aiutare con la mia presenza e spero con il contributo sul palcoscenico. La salute è fondamentale, è una delle poche cose che dobbiamo conservare il più possibile a lungo per poter combattere in una società dove la salute ce la fanno perdere dal mattino alla sera, tutti i giorni, tutta la vita. La correttezza dell'alimentazione è molto importante e sicuramente qui da noi la politica ci può aiutare molto favorendo tutti gli stili di vita adatti, quindi lo sport diventa molto importante, l'insegnamento al ben nutrire e così via.